La nostra preghiera ha raggiunto Sankos. Mi ha detto che la città che ha due re alla fine dovrà piangere il suo sovrano. Il falso re troverà la morte. Il vero re invece vivrà. Quando arriverà il tempo di combattere. Non farlo come chi non ha paura della morte. Devi temerla come non l'hai mai tenuta prima di adesso. Non combattere per vendicare il passato. Combatti per proteggere il futuro. A presto.